I televisori Hisense della serie K720 sono Smart TV 3D dotate di pannello curvo LED con risoluzione 4K Ultra HD. Il design minimal e la cornice sottile consentiranno di apprezzare a pieno immagini ad alta qualità immergendovi a 360 gradi in ogni scena, rimanendo comodamente sul vostro divano. Diverse sono le connessioni disponibili per questo modello di TV. Ingressi ed uscite sono posizionate in maniera intelligente per agevolare le connessioni e migliorare la gestione dei cavi. Hisense K720 è dotato della potente tecnologia 4x4 basata su processore quad core che garantisce alle immagini ad alta risoluzione assoluta nitidezza. Inoltre consente eccellenti capacità di upscaling per la visione di contenuti full HD e una navigazione in rete molto veloce offrendo uno spettacolo unico. I nuovi modelli TV curvi di Hisense hanno una resa molto simile all'effetto 3D senza l'uso degli appositi occhialini offrendo un'esperienza di visione spettacolare. Grazie alle nuove potenzialità smart sarà possibile ascoltare nuova musica, vedere nuovi video ed essere sempre aggiornati su ciò che di nuovo accade nel mondo, l'interazione e ai massimi livelli. Hisense K720 unisce eleganza, innovazione tecnologica e semplicità creando un dispositivo all'avanguardia adatto ad ogni ambiente e alla portata di tutti i portafogli.